Provi ad accenderla ancora, stavolta ce la farà Le ho detto di mettere in moto Ecco, mi sono già dimenticato come si fa Non posso crederci, io insegno da oltre 70 anni e mi crede la prima volta che mi capita un allievo distratto come lei Le chiedo scusa, ma non lo faccio apposta D'accordo, dia gas ora Gas? Che cosa sto dicendo, non sento odore di gas io Ma cosa ho capito, zuccole, le ho detto di accelerare E lo si fa schiacciando il pedale sotto il piede destro, quello a sinistra invece è il freno Quante volte glielo devo ripetere? Ah, sì, mi scusi Ma che cosa è successo? Credo di avere messo la retromarcia, scusi Insomma, le ho detto di frenare, sordo, lo vuole schiacciare quel pedale? Il freno è quello a sinistra, giusto? Ah, vado a diritto, diritto capito? Come? Diritto? Diritto? E come si fa? Si usa l'altro pedale Stiamo andando contro mano Eh? L'ho detto che stiamo andando contro mano Eh? Cosa significa? Prenda in mano il volante e schiacci il pedale del freno Così va bene? Lei ci vorrà non meno tre anni prima di riuscire a prendere la patente Ma io non ho tutto questo tempo da mettere a disposizione Devo finire di allenarmi prima che arrivi Stai Grazie